Abbiamo l'operazione Verità, perché le cifre che sono presenti in questo riassunto e soprattutto in questo libro che abbiamo raccolto con dati tutti certificati dimostrano che noi abbiamo salvato Roma, che se non ci fossero stati noi oggi Roma sarebbe nel default, nella crisi economica, sarebbe un dissesto totale. Dobbiamo fare di più e di meglio e vogliamo dare risposte ai cittadini e vogliamo fare di più, ma se non ci fosse questa base sarebbe impossibile andare a lavorare per il futuro.